Eccomi, allora, bene, sì, stavo guardando se avevo scaricato di nuovo Telegram, perché di solito Telegram non lo scarica, invece questa volta ce l'avevo di nuovo nel telefono, bene, sì, vai, già, e niente, no, perché ero contesa di vedere se avevo scaricato KineMaster, no, non KineMaster, scusate, Telegram, uh, mamma mia, Mi sbaglio sempre, sì, a parte che ho scaricato un altro programma per l'editing più semplice, però, non lo so, mi pare bello, sembra interessante, me la, me la, come devo dire, me la, non mi era in mente, ah, me l'ha suggerito un'amica di Youtube, ovvero Steffi, la grande Steffi, il canale della pirottina, e, devo ancora vedere come mi ci trovo, se vedete questo video, ciao, Online, vuol dire che è andato a buon fine, tutto lì, e niente, stanno già caricando altri video, molto bene, ok, intanto anche Telegram sta dando il buon passo, giusto, e nulla, già, aspettate che metto lo specchio a un lato, che posso, vedermi meglio, ok, già, Quindi, niente, ragazze, io adesso tra poco, non lo so, se farvi vedere un po' di televisione con voi, con me, oppure, esco un po' di casa, ma neanche, perché di solito esco la mattina di casa, a fare la spesuzione, Ah, se vedete questo pezzo qui, è perché non so dove metterli, c'è il cavalletto, ma qua, boh, aspettate un secondo, mi guarda, allora, Sì, vabbè, vedete lo specchietto, e lo sposto, ok, così non vedete tutto il casino che c'era alle spalle, E niente, l'ho sistemato un po' alla buona, perché è un po' storta questa inquadratura, io non capisco mai il perché, ma vabbè, E niente, quindi, quello è il cavalletto di là, quello del, di fare altri tipi di video, ma al momento, mi trovo meglio a fare con questo cavalletto da tavolo, per qualsiasi altro video faccio, Già, e niente, cosa ve lo faccio vedere questo, non mi ricordo, sì che è questo che ho fatto vedere, non lo so, ve lo faccio rivedere, vedete, bello vero, della, no, com'è che, non mi ricordo più, della Wicom, vedete, Wicom, sì, E poi niente, il resto non ve lo faccio più vedere, perché sono veramente, ve ne staccate tutto, ve ne staccate tutto, e ve ne andate, quindi, vabbè, Ah, questo ve lo farò rivedere, che, Dov'è che era, ah, ecco, In omaggio, a sapere il profumo, mi hanno dato questo, che è bellissimo, bellissimo, una miniatura bella, Olio di nocciola e mandorle, Piccolo, lo userò per andare in viaggio, solo che volte andrò in vacanza, O anche così tanto per, Ah, Così tanto per portare qualcosa dietro, Quando mi serve di lavarmi le mani, ecco, Utilizzo questo vidale, Piccolo, 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 è bellissimo, Ah, 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 Ciao, E niente, Ragazze, Il video pare che te non era qui, E niente, Io ho sempre quelle scarpe Birkestock, Che mi piacciono da morire, Ehm, che dire, ci si vede al prossimo video, dopo di questo, Continuo con i video, ah, oh, che che dici, sì, dai, Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, ragazzi, eccoci in un altro nuovo video di oggi, Allora, questo è un video, appunto, un altro video, che che riccio, come va? Spero bene, spero bene, allora, non so quante volte vi chiederò la stessa cosa, ma, vabbè, fa niente, dunque, E nel frattempo, mi sto guardando altre cose in televisione, e niente, cosa dirvi, sì, sto guardando la televisione, ma mi piace di più fare video, anzi che guardo la televisione, ma proprio dettagli, e niente, Ah, ho aperto un nuovo profumo, che è questo qui, che non so che numero sia, 19, sì, Eau de Parfum, Farma, di Parma, questo è, vedete, non so se si vede, Parma, bello, un profumo molto buono, e bello, soprattutto, ha una buona fragranza, e niente, ragazze, era solo per dirvi che, No, 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 non è che era solo per dirvi, quattro parolinea croce, e, nulla, non sono le truccate, niente, ma, vabbè, dettagli, e quindi niente, già, Quello che era finito, quello che stavo cercando fino adesso, questo pezzo qui delle cuffie, le vedete? Eccolo qua, nulla, cose strane della vita, che mi accadono, Non mi ricordavo dove fosse finito, questo, arnese qui, delle cuffie, che si aggancia, alle cuffie, cioè, tra il telefono, questo qui, e questo, alle, alle cuffie, appunto, e vabbè, niente, così, così, Quindi, ragazze, Io mi sto prendendo voglia di truccarmi, a questo momento, ho un sudore, che non avete idea, adesso sono asciutta, ma, in un altro momento, vabbè, c'è i pennelli sporchi, Ne userò altri, ma, così, si prolunga l'attesa, dell'asciugare, i pennelli, vabbè, E niente, mi sta piacendo un casino, questo rossetto qua, della, Wicom, Come che si mette così, sì, ok, per farvelo vedere, Wicom, Molto bello, e, Il colore è questo, lo sto terminando, vedete, ragazzi, che lo sto terminando, è bellissimo, 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 Vici da matti, Questo è un 604, Sublime, Che si mattifica sulle labbra, si fissa sulle labbra, Tanto per dire che si fissa, perché, Non mi pare, così, però, vabbè, dettagli, E niente, E niente, E niente, 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 Io non so più che cavolo fare di video perché tutti quei video che faccio o non piacciono o non si rifiua nessuno Vabbè l'avrò detto la stessa cosa però la sostanza è sempre quella Già Potrei fare un video addirittura sui campioncini Cioè non campioncini solamente Indossare i campioncini che ho E boh non so o farci trucchi non ne ho idea neanche io Non si ma che io ho quello che voglio fare Già E così E niente Aspetta un secondo Chiudo e riattacco dopo Chiudo e riattacco 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 Chiudo e riattacco